Avere un'università sul territorio è sicuramente un'opportunità e un valore aggiunto che l'amministrazione comunale di Fano vuole sfruttare a pieno. Quello avvenuto tra il rettore dell'università di Urbino e il sindaco di Fano è stato un incontro per scandagliare ogni possibile forma di collaborazione e capire quali opportunità future si possono aprire. Dall'incontro sono emerse tante opportunità, molti settori su cui collaborare a cominciare dall'obiettivo che noi abbiamo, quello di rivisitare il piano regolatore preceduto da un lavoro propedeutico che è quello di un piano strategico che non guardi soltanto la nostra città ma guardi il territorio. Contenuti e progettualità sono tutte da definire nel prossimo futuro ma l'università di Urbino guarda a Fano come un territorio su cui affrontare temi cruciali come semplificazione ed Europa indispensabile per captare i fondi strutturali necessari. Questo per l'università e credo per tutto il nostro territorio deve essere una priorità, una priorità che in un qualche modo sarà anche la cartina di Tornasole per verificare le nostre capacità progettuali. Quindi siamo davvero stimolati, è una sfida importante che dobbiamo affrontare con grande determinazione.